Professionalità e cortesia, tutto questo lo puoi trovare da C.R.E. di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. Nel corso di controlli mirati dei soggetti economici esercenti l'attività di stabilimenti balneari della provincia di Salerno, da parte delle fiamme gialle della sezione operativa navale Salerno sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica, sono state rivelate occupazioni abusive in maniera permanente e continuativa di oltre 4.000 m2 di aree demaniali marittime, in assenza dei previsti titoli abilitativi a fronte di canoni concessori nettamente inferiori al reale utilizzo. Ciò ha portato al sequestro penale di 15 aree demaniali, di numerose strutture, ombrelloni, lettini e sdraio. L'intervento della Guardia di Finanza ha permesso di interrompere per la stagione balneare 2024 introiti non dichiarabili potenzialmente quantificabili in circa un milione di euro. Al fine di tutelare il demanio marittimo, contrastare l'abusivismo edilizio e difendere l'economia legale, le aree oggetto di contestazione sono state immediatamente liberate dagli arredi balneari illecitamente collocati, per consentire la regolare fruibilità della collettività. Infine, sono stati deferiti alla locale autorità giudiziaria 15 soggetti responsabili, a vario titolo, delle violazioni in materia ambientale, paesaggistica, urbanistico edilizia e del codice della navigazione. L'operazione di servizio condotta dalla Guardia di Finanza si colloca nell'ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio nella fascia costiera campana, che il reparto operativo aeronavale di Napoli, a competenza regionale, esegue costantemente utilizzando apparecchiature di controllo sofisticate installate a bordo dei mezzi aeronavali. Solo una settimana fa, anche a Vietri sul mare, a seguito di alcuni controlli sul corretto utilizzo del demanio marittimo da parte della Guardia Costiera di Salerno e dei carabinieri della tenenza locale, erano stati sgomberati tratti di spiaggia occupati abusivamente. L'incessante controllo garantisce la salvaguardia della libera concorrenza e il contrasto all'illegalità lungo la costa.